La nuova sede è anche a livello estetico molto più bella, a disposizione per gli studenti avendo anche un auditorium per poter fare i concerti e saggi di strumenti, è molto confortevole e bella. Ha bisogno di essere rivisitata e anche valorizzata perché essendo da quattro mesi qui a scuola c'è ancora molto da fare. Essendo arrivata alla fine del mio percorso scolastico in questo liceo sono contenta di aver avuto la possibilità di vedere nascere questa sede e vado via con il sorriso.